Grazie a tutti. Per inserire. Questi clienti sanno già quello che vogliono, quindi cercano il colore, la qualità, la misura e chiedono se c'è tutto questo. Il prezzo non c'è problema perché ho sempre cercato di mantenere il prezzo adeguato alla qualità del tappeto. Grazie. Facciamo praticamente la fiera come esposizione, poi seguiamo i clienti a domicilio per chi vuol vedere e ambientare a casa sua il prodotto. Grazie. Grazie.